La Regione Abruzzo oggi premia due eccellenze della nostra Regione, due eccellenze di Pescara. Consigliere Testa, un brand, quello della nostra Regione, che deve essere valorizzato. Noi riteniamo che la Regione abbia il dovere, ogni qualvolta c'è qualche ragazza, qualche ragazzo, che in qualche maniera si mette in evidenza, in questo caso a livello mondiale, quindi portando il nome della nostra città, della nostra Regione in tutto il mondo, dare un riconoscimento, un premio, un riconoscimento a loro, un riconoscimento a tutti i loro sforzi, alle famiglie che hanno investito, creduto in loro. Parliamo di due campioni mondiali, Puka per quanto riguarda la pasticceria, pasticcere mondiale, e quando riguarda Bronzi, è diventato a soli 15 anni, è arrivato quarto, una manifestazione mondiale di kitesurf, che è uno sport dal grande fascino acquatico. Quindi noi siamo contenti di premiarli, per noi rappresentano anche strumenti di marketing territoriali molto efficaci, e ci piacerebbe pure che qualche azienda abruzzese, non solo, potesse accostare i loro brand, i loro marchi, per far crescere, per incentivare e per dare l'ulteriore spinta a questi due grandi campioni. Lorenzo Puka, campione del mondo di pasticceria, un grande riconoscimento per te? Beh, sì, sicuramente, diciamo che è la chiusura di un cerchio, un sogno cominciato tanti anni fa, è perseverato anno dopo anno, fino ad arrivare a raggiungere l'obiettivo. Luca Bronzi, giovanissimo, ma già campione del mondo di kitesurf, per te una bella soddisfazione, ma sicuramente un punto di partenza, non di arrivo. Sì, sicuramente, è stato un grande obiettivo, ma da qui devo far partire tutta la mia futura carriera. Spero di diventare il campione del mondo, vedremo. Soddisfatto per questa premiazione in Regione? Sì, sì, sono molto soddisfatto, anche se potevo fare meglio, però comunque per me è stato un grande obiettivo. Sì, sì, sono molto soddisfatto.